Ciao ragazzi da Vittorio, video fatto un po' così di corsa perché fra un paio d'ore devo partire per Glasgow o il treno che mi aspetta, pronto per andare a vedere la Lazio finalmente nel Regno Unito per la prima volta da quando mi sono trasferito finalmente a Lazio gioco una partita ufficiale in Inghilterra e non me la potevo perdere anche se mi è costata un po' ma oggi in questo video voglio parlare di una cosa che in pochi hanno sottolineato e a me è venuto in mente guardando per esempio Manchester City Atalanta ma prima se sei un tifoso da Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un nuovo video sulla prima squadra della capitale quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che YouTube ti manderà un'identifica ogni volta che caricherò un nuovo video e mi raccomando iscriviti al nostro canale Telegram dove parliamo di Lazio insieme a tanti altri tifosi della Lazio da tutto il mondo ma vorrei fare una riflessione con voi se vi ricordate quando Simone Inzaghi è venuto da Lazio la Lazio era un bel gioco giocava un sistema corale direi con un 4-3-3 dove magari cambiavano gli interpreti il rendimento era sempre lo stesso ecco secondo me da quando Inzaghi è cambiato e è passato al 3-5-2 la Lazio non gioca più in modo corale ma il gioco è determinato dai singoli se Luis Alberto, Minko, I Savic o Correa giocano a loro livelli ovvero bene la Lazio diventa una squadra molto pericolosa, difficile da fermare ma se togliamo questi giocatori il gioco della Lazio diventa facile da bloccare poco brillante e piuttosto ripetitivo ecco invece se pensiamo per esempio all'Atalanta di Gasperini invece vediamo una squadra che puoi togliere gli interpreti, puoi cambiarli eccetera l'Atalanta gioca sempre allo stesso modo pressing alto, calcio molto dinamico, aggressivo, ultra veloce che mette in grande difficoltà la difesa e poi Gasperini può togliere Zapata, mettere Ilicic, Muriel eccetera la squadra gioca sempre così non c'è un calo di intensità o di forma in base a chi gioca e chi no invece nella Lazio questo è piuttosto evidente no? l'abbiamo visto per esempio in Lazio-Ren quando i titolari non c'erano la Lazio giocava in modo molto lento molto compassato, difficoltà a creare il passaggio filtrante difficoltà a creare azioni difficili poi entrano Milinko I Savic e Luisa Alberto e magicamente la Lazio si trasforma diventa una squadra dinamica, diventa una squadra difficile da bloccare una squadra che crea tante tante occasioni a gol e alla fine vince ecco, secondo me Inzaghi ha un po' perso questo tipo di calcio si è troppo legato alle individualità è vero, quando hai giocatori come Luisa Alberto e Milinko I Savic giocatori che ti possono fare la differenza ovviamente li devi sfruttare però a mio avviso la Lazio non gioca più da squadra la Lazio si aggrappa troppo ai singoli e questo è un problema perché quando i singoli non girano vedi appunto il secondo tempo della Spallo contro Kluci eccetera la Lazio diventa una squadra prevedibile una squadra che non fa più male manca un gioco corale per esempio, e ve l'ho fatto vedere in tanti video in precedenza la Lazio sfrutta pochissimo le fasce quante volte vi ho fatto vedere che Marusic per esempio era libero e Luisa Alberto, Milinko I Savic giocchi per lui anziché allargare il gioco sulla destra andava per via centrali ecco, la Lazio non sta giocando da squadra Simone Zaghi non sta imponendo un modulo ovvero dà tanta libertà in fase offensiva ai giocatori di qualità ma senza dargli un copione da seguire e questo significa che quando Luisa Alberto, Milinko I Savic non inventano beh, la squadra non crea e questo è un limite piuttosto grande ripeto, i primi anni di Simone Zaghi soprattutto quando giocavo con 4-3 la Lazio aveva un canovaccio la Lazio era una squadra aggressiva che giocava molto sulle fasce è vero, avevamo Keita, Felipe Anderson che andreva giocatori che erano bravi a giocare sulla fascia ma il gioco della Lazio c'era adesso, soprattutto quest'anno non c'è un canovaccio la Lazio è Luisa Alberto che inventa Milinko I Savic che crea correa con la velocità eccetera eccetera non c'è un gioco Lazio e questo secondo me è un problema è un campanello d'allarme importante è un limite di questa Lazio mi auguro che Simone Zaghi ne prenda atto e corre ai ripari anche perché l'abbiamo detto la Lazio deve fare turnover e allora che vuol dire quando Luisa Alberto Milinko I Savic non giocano la Lazio gioca male? no bisogna avere una idea di gioco e provarla a metterla in atto tutte le volte ovvio non sempre sarà possibile quando giochi contro una squadra organizzata o magari più forte di te è difficile imporre il tuo gioco devi adattarti però in generale secondo me la Lazio non ha uno stile di gioco lo stile di gioco della Lazio è dettato da Luisa Alberto Milinko I Savic e Correa e secondo me per una big soprattutto è sbagliatissima stiamo vedendo adesso come la Juve è passata da Allegri che aveva un po' questo tipo di mentalità io organizzo la fase difensiva poi all'attacco ci pensano i talenti a Sarri che invece organizza un gioco offensivo della Juventus i tanti tocchi di palla Guardiola ovviamente ma ce ne sono tanti di allenatori che organizzano il loro sistema di gioco offensivo Inzaghi mi sembra che abbia deciso secondo me in modo errato di invece affidarsi esclusivamente alle singolarità ai singoli e questo è un limite secondo me piuttosto evidente e voi che ne dite? scrivetelo nei commenti qua sotto e ovviamente iscrivetevi al canale Telegram ciao alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti